Una legge di civiltà, una legge che ha avuto un iter complesso, che richiede un'attenzione particolare, soprattutto nel capire quale sia stato lo spirito che l'ha portata ad essere oggi un passaggio fondamentale della storia del nostro Consiglio regionale, voluta fortemente dal sottoscritto che ha l'onore di averla firmata, dal Presidente, da vari uffici che hanno lavorato, ma anche da tutto il Consiglio e da tutta la Giunta. Ognuno ha messo del proprio, ognuno ha dato un contributo decisivo ed è oggi un passo importante perché rende sicuramente più attenta la Regione Abruzzo nei confronti dei criteri di accesso alle case popolari. Certamente più sicure le case popolari nel momento in cui riusciremo ad applicare a pieno quelle che sono le norme certamente più stringenti che vengono segnalate ed approvate con la legge stessa e poi vengono poste le giuste attenzioni su degli ambiti che non sono mai stati approfonditi a sufficienza. Noi abbiamo respirato da vicino il disagio che viene dalle case popolari, le grida d'aiuto delle persone oneste che abitano nelle case popolari e che lamentano la poca attenzione da parte delle istituzioni. Con questo tipo di legge ci saranno dei controlli più severi, più stringenti, anche con protocolli di intesa con forze dell'ordine. Ci saranno sicuramente dei criteri attraverso i quali noi avremo certezza che chi sta all'interno delle case popolari merita di stare all'interno delle case popolari, merita l'attenzione e il sostegno delle istituzioni e dello Stato italiano. Chi perde questi requisiti, chi li perde perché non ha una condizione di non abbienza che è parte integrante delle motivazioni per rimanere all'interno delle case popolari, chi perde i requisiti perché delinque o perché occupa abusivamente per reati contro la persona, per reati contro il patrimonio, per reati contro la pubblica amministrazione, abbiamo voluto aggiungere per reati contro la bandiera. Chi quindi perde nel corso del tempo motivazione e requisiti viene cacciato via. Questo è un gesto, è un segno di civiltà, è un passo importante di civiltà perché non è un dato acquisito avere la casa popolare, è un dato acquisito permanente e non modificabile nel tempo. Una regione, un'istituzione seria va a controllare e verificare se ci sono le condizioni che permangono nel tempo perché questi alloggi vengano occupati in maniera coerente e onesta dalle persone che lo meritano. Tutti coloro che per qualsiasi motivo non meritano di stare all'interno di questi complessi non lo meritano perché non meritano la fiducia delle istituzioni e in particolar modo della solidarietà del popolo italiano perché queste case sono le case dello Stato e del popolo italiano segno della civiltà del nostro Paese nei confronti di chi è meno abbiente viene cacciato via nel momento in cui perde questi requisiti. Per noi è un momento di grossa civiltà, di grossa democrazia, di grossa uguaglianza e soprattutto di grossa opportunità per le persone oneste di sentirsi oggi più sicure.